Vi auguro una serena giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è felici aspettative. Rimani saldo nelle tue speranze, sogni, affermazioni, visualizzazioni e preghiere, perché si manifesteranno splendidamente quando meno te lo aspetti. Credi sempre che i tuoi desideri possono avverarsi. Con i tuoi pensieri e sentimenti positivi hai piantato i semi affinché quanto desideri si manifesti. A volte però se non vedi risultati imminenti potresti scoraggiarti e cedere a pensieri pessimistici. Mantieni salda la tua fiducia, anche se ciò che desideri impiega più tempo di quanto credevi per manifestarsi è in arrivo. Nel frattempo incoraggia la tua manifestazione con un atteggiamento positivo. Esci all'aperto nella natura. Anche in cortile o un piccolo parco vanno bene e discorri mentalmente con le tue amiche fate. Sono espertissime nella manifestazione. Confida loro i tuoi dubbi, le tue paure ed elusioni, così come le tue speranze e i tuoi sogni. Chiedi alle fate di aiutarti a lasciare andare ogni negatività e percepisci la loro presenza mentre ti circondano con il loro amore e la loro splendida luce. Altre affermazioni di questa carta sono al sicuro, fiducioso e protetto. Se penso al mio futuro mi sento pieno di gioia. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.